In un clima di festosità si è svolta ieri la consegna degli attestati di merito all'Istituto di Istruzione Superiore, liceo scientifico Galileo Galilei di Modica. Il riconoscimento è andato agli oltre 50 alunni che si sono diplomati con altissimi voti, di cui molti con la lode. Successo l'usindiero per un istituto frequentato da alunni che arrivano da parecchie zone della provincia, soddisfatto il corpo docente e il dirigente, il professor Sergio Garuba. Sicuramente è un momento molto importante la premiazione delle eccellenze. Noi siamo abituati ad avere grandi numeri sempre per quanto riguarda i ragazzi che alla maturità conseguono il massimo dei voti e anche la lode. Quest'anno abbiamo raggiunto un traguardo importantissimo, ben 51 ragazzi hanno raggiunto il 100 e di questi 19 hanno avuto anche la lode. Ciò testimonia che il nostro istituto è un istituto di eccellenza non soltanto nel territorio ebleo ma anche a livello siciliano e che quindi questi ragazzi porteranno avanti il nome di Modica che è chiaramente la nostra città su cui operiamo maggiormente ma anche di tutto il territorio ebleo. Grazie. Grazie.